Dopo Facundo Lescano anche Amsa Raffia lascia il Pescara. Si concretizzano così i principali movimenti in uscita previsti alla fine dell'ultima stagione e alla vigilia dell'attuale sessione di calciomercato. Raffia è stato ceduto a Lecce ma a cifre inferiori rispetto a quelle ipotizzate nelle settimane scorse quando si era pensato che il calciatore ceduto ad un club di A avrebbe fruttato fino a 4 milioni di euro. Cifra che proprio in un'intervista rilasciata oggi al messaggero il presidente Daniele Sebastiani aveva smorzato affermando che l'importo era folle per un calciatore di C e che se si fosse arrivati al milione e mezzo di euro sarebbe stato un grande affare. E il Lecce a quanto si apprende verserà nelle casse del Pescara 1,3 milioni di euro tra parte fissa e bonus ed avrà diritto al 15% del prezzo di futura rivendita. A sua volta il 40% della cessione di Raffia a Lecce sarà girato alla Juventus dunque al Pescara e resterà in cassa una disponibilità tra i 7 e gli 800 mila euro. A Lecce il giocatore franco tunisino sarà allenato da quel Roberto D'Aversa che spesso lo scorso anno ha assistito agli allenamenti del Pescara e ha potuto apprezzarne da vicino le grandi qualità tecniche. Ora si aspetta anche l'uscita del difensore Gianmarco Ingrosso direzione Pineto mentre sul fronte delle entrate il Pescara proverà a chiudere per un altro prospetto come il centrocampista 19enne della Vibonese Antonino De Marco mentre c'è un interesse crescente per il 25enne centravanti Cristian Tommasini lo scorso anno 8 gol col Taranto ma ora tornato al Pisa per fine prestito. Un profilo da inserire come possibile cambio di Vergani. La squadra ieri ha iniziato a lavorare agli ordini di Zeman e del suo staff allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Ieri e oggi test atletici, da domani la preparazione vera e propria. In rosa regolarmente anche Prizari, Mora e Colai, soprattutto quest'ultimo sembrava prossimo al trasferimento al Cesena ma per ora resta al Pescara e questo frena l'innesto di Russini. Tra le valutazioni che farà Zeman nelle prossime settimane e le dinamiche di mercato questi sono tre calciatori il cui destino non è certo se permanenza o addio. Solo in caso di cessione la società si muoverà per sostituirli.